Riprendiamo il nostro confronto e riprendiamo da qui, dal Monte dei Paschi, che futuro possiamo immaginare Stefano? Io credo che il Monte dei Paschi stia vivendo in questa settimana un passaggio delicato della propria storia, quasi sembrerebbe un ritorno al passato, un ritorno al passato nel quale la sborne degli ultimi anni, l'avvento della quotazione in borsa e tutto quello che è successo, il tentativo di crescita della banca più antica del mondo si è poi tradotto in un fallimento rispetto alla propria capacità di sapere stare sul mercato, ma anche di produrre reddito, ma allo stesso tempo di produrre reddito vero, da distribuire ai propri azionisti e nello stesso tempo in grado di fare politiche di concessione del credito degne di questo nome, nello stesso tempo acquisizioni tali da poterle consentire di essere una grande banca, quindi un fallimento strategico che ha riguardato un quindicennio di esperienza della governance della banca, io non credo che le responsabilità si possono legare a una persona, a due persone, a quello o all'altro, andiamo a vedere quello che può essere la banca, la banca tornerà a fare la banca nel momento in cui fondamentalmente tornerà a saper far credito, a sapere stare vicino al proprio territorio, a poter accompagnare le imprese, i cittadini nei propri processi di sviluppo, a sapere anche richiedere i soldi che presta alle persone, perché quella è la natura di una banca, quindi il governo mi auguro che quanto prima termini questa fase con la quale diventi principale azionista, investa su una governance razionale, fatta di sobrietà, che si leghi anche alla città, perché credo che ci sia stato un passaggio per la quale secondo me la mia lettura è stata questa, a un certo punto era morboso il legame fra banca e politica e città, però c'era anche un controllo sociale di quello che avveniva, poi posso essere smentito, ma non credo, quando lui era sindaco, quando le persone erano in fondazione, in banca, se comunque qualcuno si permetteva di commettere un errore, passeggiava per il corso, secondo me c'era una sorta di controllo sociale e anche politico, dell'accezione migliore degli errori che venivano commessi e anche della gestione della banca, poi c'è stato a un certo punto l'egemonia del potere di pochissime persone che hanno prodotto dentro la loro vanagloria fondamentalmente degli errori e nessuno è in grado di contrastarli, se non qualcuno di denunciarli, ma nessuno di noi è immune, perché anche io nel mio piccolo, ero come diceva Pierluigi, sindaco di Campagna, denunciaio, approvato, del mio piccolo ad impedire certe scelte, ero oggettivamente in minorità, ricorderò sempre la riunione in ambito della quale ero unico, dissidente, che provavano a dire che fondamentalmente si andava verso una deriva sbagliata, ma fondamentalmente non ce l'ha fatto il sistema tutto, non ce l'hanno fatto le persone, non ce l'hanno fatto i senesi a far correggere quell'opinione, detto questo, credo che la banca dovrà tornare a fare la banca, a me non mi scandalizzerebbe per esempio un'integrazione del Monte dei Paschi, che poi lo Stato entra a prendere le azioni e poi deve decidere entro un anno, un anno e mezzo cosa farci, il salvataggio andrà in porto, la banca tornerà a fare la banca, premesso che non si può continuare a perdere 3, 4, 5, 6, 10 miliardi l'anno, credo che nessun amministratore sarebbe stato in grado di perdere quello che hanno perso le ultime governance, perché fondamentalmente bastava star fermi a un certo punto in banca e non commettevi quegli errori, a un certo punto tu dovrai ricollocare questo istituto bancario nel mercato e dovrai accompagnare un processo per esempio di integrazione o con altri grandi soggetti pubblici, perché poi vorrei vedere come noi usciamo fra un anno e mezzo a gestire questo traghettamento, quindi grandi questioni per esempio che erano aperte in passato, penso con la Cassa dei Posti dei Prestiti, penso con l'istituto delle poste, penso con altri soggetti, se tutto diventerà dentro legge del Ministero, dentro le partecipazioni statali o altrimenti dovrai veramente fare un grande scatto in avanti in termini qualitativi di bilancio e dimostrare che la banca è in grado di tornare a fare utile, di salvare, dimostrare che la propria occupazione è congrua con le proprie possibilità, che quel numero di dipendenti è corretto rispetto alle proprie possibilità ma per essere corretto dobbiamo produrre utile, quindi non commettere errori e a quel punto ricollocare sul mercato gradualmente le azioni e trovare investitori nel momento in cui saranno risolti i problemi anche della parte del credito del quale a me non è che interessa tanto sapere chi è stato finanziato, mi interessa che gli vengano richiesti soldi, perché sia il piccolo artigiano, quando venivano date 20 mila Euro, quello non pagava la rata e poi gli si pignorava la macchina, perché questo è stato fatto e bisogna farlo anche a quello che gli si è dato un miliardo fondamentalmente e allora bisogna aggredire questi patrimoni e mi auguro che questa cosa lo faccia lo Stato, perché a questo punto è l'unico soggetto che gestisca in house i recupero crediti, io non sono fautore di quelli che ritengono che sia corretto esternalizzare il recupero crediti, fondamentalmente la società vendendo dal 20 al 23%, a questo punto che lo Stato è diventato azionista, abbia anche il coraggio di guidare quel processo, credo che il punto di caduta sia la tenuta dei livelli occupazionali e allo stesso tempo sia il risparmio dei nostri correntisti, dei nostri obbligazionisti, la possibilità della banca di tornare ad avere una PIL e credo che sia a questo punto netto il distinguo tra quello che la banca può tornare a fare come banca e quello che a un certo punto la fondazione per esempio, oggi non abbiamo avuto modo di parlarne, io mi auspico possa fare per il territorio senese tutto come grande volano a questo punto, indipendentemente dalla partecipazione bancaria, ma di sviluppo fondamentalmente del tessuto sociale ed economico della città. La banca dunque tornerà a fare la banca? Sì, ma non torna all'origine come ha detto Stefano, assolutamente no, lo Stato entra ma entra per poi metterla sul mercato, quindi una società per azioni, da qui non si torna indietro, ma non perché a un certo punto è stato voluto, perché tutto il mondo e tutta l'Europa funziona in questo modo qui, non in un altro modo, quindi lo Stato entra, lo Stato risanerà la banca, me lo auguro e poi rimetterà la banca sul mercato, non sarà un percorso semplice che durerà poco, secondo me i tempi saranno molto lunghi e c'è un vizio di origine però anche in questo fatto, perché poi la scelta dell'amministratore delegato è una scelta politica, non è una scelta tecnica, l'ha voluta Renzi ed è un uomo legato a JP Morgan, quindi non è una scelta di mercato degli azionisti, fra virgolette. È vero quello che diceva Stefano, che un certo tipo di controllo sociale è venuto meno, ma perché il periodo del dominio nel rapporto della gestione di questa città e della banca che ha creato amico nemico ha anche allontanato il controllo sociale dalla banca. Mi ricordo di uno scontro violento che ho avuto con una persona che purtroppo non c'è più, ma all'epoca era un vicepresidente di una banca proprio su un prodotto che è il Yuram Way, perché avevo delle segnalazioni che mi venivano come sindaco da dentro la banca e io feci presente che il prodotto non andava bene. Questo era quel famoso controllo sociale che è venuto meno. Sul discorso dell'occupazione io mi auguro, ma non credo che le quantità saranno salvaguardate, per tanti motivi, perché se oggi si fa un calcolo molto approssimativo l'attivo della banca è a 200 miliardi, se il margine di interesse oscilla fra il 4-5% fate la moltiplicazione e vedete quanto costa il personale, probabilmente qui ci sarà molte cose da vedere, molti punti critici. Mi auguro che questa presenza dello Stato nella banca permetta di avere un accompagnamento morbido. Oggi noi per esempio sul fondo di solidarietà era stato previsto per 600 persone, hanno fatto domande a più di 1000 persone e credo che tutte saranno soddisfatte, però non sarà sufficiente, quindi qui bisognerebbe non per entrare nella gestione della banca, ma per accompagnare in maniera corretta e la più morbida possibile questo passaggio che non sarà semplice, bisognerebbe aprire un tavolo di trattativa serio con lo Stato per vedere di fare un rapporto il meno doloroso possibile. Per quanto riguarda la fondazione, che la fondazione possa oggi ritornare ad essere il motore, il volano a sviluppo, ho molti dubbi, perché è molto povera e francamente non penso neanche possa dire molto se non nulla sulla gestione della banca. Io credo che la fondazione abbia bisogno prima di ritornare a fare finanziamenti di consolidare e rafforzare il suo patrimonio, è la cosa più importante che debba essere fatta, ha dei costi molto alti ancora e ancora viene gestita come se fosse la vecchia fondazione, cosa che non è più così, quindi bisogna avere anche qui il coraggio di sapere che i tempi sono cambiati e che le dimensioni sono diverse. La banca tornerà sicuramente a essere una banca sul mercato, dovrà vedere che poi probabilmente ci saranno delle fusioni, spero che siano le più convenienti possibili. Certo che questo rapporto con la città si è interrotto e forse potremmo ancora salvaguardare qualche presenza, la presenza della direzione generale che però non dovrebbe essere soltanto una presenza di natura storica, dovrebbe essere una presenza di natura funzionale anche se il sistema bancario è in crisi oggi, ma in crisi perché gli intermediari economici sono cambiati, perché sono strutture obsolete di fatto e che hanno altre vocazioni, altre missioni e questo dobbiamo prenderne atto, quindi la città dovrà trovare in altri punti forti il suo modello di sviluppo. Ecco, noi non possiamo immaginare una siena di domani senza immaginarsi cosa sarà il palio nei prossimi anni. Intanto vediamo cos'è il palio adesso e se le amministrazioni che si sono avvicendate negli ultimi tempi hanno fatto di tutto per difenderlo. Pierluigi? Io se dovessi guardare gli ultimi anni direi che c'è un eccesso di presenza impropria nel palio, che è quello legato alla magistratura, impropria perché il palio ha una sua dimensione, non è una corsa di cavalli, è una grande festa antropologica che è funzionale all'equilibrio di questa città e come tale deve essere affrontata. La questione, l'ho detto anche da parte, non perché difendo il cazzotto, ma il cazzotto scontro è funzionale nella capacità di scaricare la violenza di una società e finché avviene attraverso una ritualità vuol dire che le società sono sane, quando questo non avviene attraverso un rito vuol dire che le società sono patologiche, quindi bisogna partire da questo presupposto che anche gli scontri non sono un elemento patologico, ma sono un elemento funzionale al palio. Mi sembra che l'amministrazione non ha adoperato gli strumenti che aveva in mano, perché li ha per fronteggiare questo problema. La giustizia palesca è stata utilizzata non proprio in termini equamini, di un controllo equilibrato, di un passaggio equilibrato e questo sicuramente ha creato dei problemi, quindi il palio continuerà a esserci sicuramente, non ho dubbi su questo, per tutte le parti quando si dice si fa finito il palio, non è così, bisogna conoscerlo come amministrazione nella sua componente, spesso e volentieri si è rincorso delle critiche che venivano dall'esterno, per esempio si è rincorso gli animalisti, non tenendo conto che se si va su quella strada si perde, il palio è qualcosa di più di un cavallo, è qualcosa di più che sicuramente va tutelato e la festa ha fatto tutto per tutelarlo, ma è qualcosa di più, è una grande festa antropologica per fortuna che fa di questa società senese ancora una società equilibrata, da attraverso il palio si può leggere la struttura sociale di questa città e ancora non è patologica, non vorrei che diventasse patologica per l'inerzia di alcuni attori. Ecco si è fatto di tutto Stefano per difendere il palio negli ultimi anni? Io credo che il giudizio lo dia la storia in questo momento, il fatto che si sia arrivati troppe volte fondamentalmente a valutare in termini più giudiziari o in termini di indagini quello che è avvenuto, sembra che la storia abbia dato un giudizio negativo di questa capacità non tanto politica quanto culturale di difendere se stessa e quindi qui condivido l'idea, peraltro ne parlo con grande rispetto, rispetto a una estranetà, rispetto al fatto, a una lettura come può essere la mia, che è un'esperienza unica nel suo genere che determina ovviamente un equilibrio interno autoregolamentato in termini unici. Penso nella storia della dimensione dell'uomo che si aggrega con l'uomo e determina un processo sociale che ha delle proprie regole, un proprio ritualismo del quale ogni attore partecipe consapevole di quella dimensione di quella regola. È una dimensione per la quale potrebbero non servire regole scritte nel determinare la regola, è quasi una differenza tra un regime di common law e uno di civil law, se si riguarda la storia, se si riguarda un'accezione unica in questa dimensione. Quindi credo che debba trovare, lì trova la propria natura, ma mai ha formato, ha determinato proprio la dimensione culturale delle esperienze, anche relazionali, anche proprio culturali e anche di approccio che rende unica la città, unico il palio e unico anche il modo di calarsi dentro la città per quanto riguarda per esempio anche la politica, il cospetto di una realtà del genere che invece ha bisogno di una propria dimensione completamente autonoma, dentro la propria autoregolamentazione. Credo che questa sia la più grande suggestione che la città ancora riesce a dare e credo che nessuno comunque, né un politico bravo o negativo, né una magistratura, né un soggetto sterno, né un'indagine può alledere quello che è poi l'identità della città che è di per sé il palio prima ancora di ogni altra cosa, prima ancora della banca o prima ancora della fondazione o prima ancora della grande bellezza che dentro la città si può respirare, è proprio una dimensione di identità che identifica proprio la propria storia, la propria natura, quindi lì trovi la natura, l'unicità fondamentalmente di quella relazione che nasce ha proprio dentro quella dimensione stessa. Ecco concludiamo così, prima dicevate che molte persone vi incontrano, vi invitano entrambi a candidarvi, che cosa vi dice la gente, che cosa vuole per la Siena di domani? Due battute proprio. Ma è chiaro che cosa vuole? Vuole avere delle tranquillità sul futuro, vuole capire se ce la facciamo, se ce la facciamo a riprenderci, a riprenderci come collettività e a disegnare un percorso, questo vuole sostanzialmente, poi ci sono alcuni rumori, battute varie, ma quelle fa… Io puo, ma non ci puoi lasciare qui. No, vabbè, ma dai, lo sai perfettamente, è chiaro che l'amministratore di turno è sempre sottoposto, questo è normale, però voglio dire, la cosa che si chiede è questo, un orgoglio ferito, la cosa che io registro è un orgoglio ferito, un'identità veramente colpita, pugnalata, questo era una volontà di capire se questa collettività ha ancora la forza di ripartire. Stefano Scaramelli, una battuta. Sì, no, con una battuta si potrebbe dire che la percezione forte che si percepisce è che Siena ambisce se stessa a tornare a essere Siena, io dico in maniera retorica perché dentro il nome ci sta tanto, della storia, del blasone, dell'idea di una Siena che è in grado fondamentalmente di porre col suo nome tutto intorno a se stesso, allora questo io mi sento un pezzo, lo dico onestamente, di grande responsabilità politica per quello che ho rappresentato sul territorio sienese, per la città, rispetto al legame con Matteo Renzi, rispetto all'esperienza di cambiamento, di tentativo di cambiamento, per carità io non voglio avere quella presunzione, all'idea di averci messo l'anima per provare a cambiare la politica in questa città, in questa provincia, in questo territorio, quindi mi sento quel pezzo di responsabilità e molte persone mi caricano di questa responsabilità che io metterò a disposizione, lo dico apertamente, senza essere io il protagonista principale di quella partita in termini amministrativi, ma non defilandomi dalla responsabilità politica di guidare il processo politico anche della città, quindi questo però è un investitore della quale io non pretendo che le persone, la città di Siena, il PD di Siena debba concedere a nessuno, se ci sarà consapevolezza per fare questo, fin dal prossimo congresso io sono a disposizione per prendermi anche la responsabilità politica di guidare quel processo e con lungimiranza di condurlo da dove io penso possa essere la soluzione per far tornare Siena grande come l'emerita. Ecco, fra tante divergenze, anche qualche convergenza abbiamo visto, fra Stefano Scaramelli e Pierluigi Piccini abbiamo immaginato la Siena di domani, a voi vi ringraziamo di averci seguito, al prossimo appuntamento con E ora, il prossimo venerdì alle 21.30. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.